Grazie a tutti Marina Luperi team Italia 30 e 49 per la Lucchese che nuota in quarta corsia Vidal 31 08 e poi la Pesole 31 e 53 Marina Luperi 1 04 e 59 ancora lei al comando Vidal 1 05 64 Fontana risale in terza posizione 1 06 61 2 16 e 19 il primato di Chiara Vandini in serio pericolo La Luperi ha vinto il titolo italiano giovanile con 6 secondi in meno 2 10 e 83 E dunque siamo al 150 1 38 68 per Marina Luperi con un intermedio di 34 secondi Dovrebbe concludere intorno al 2 11 questa gara a meno di cedimenti e dunque siamo abbondantemente sotto i passi del primato della manifestazione Marina Luperi è stata anche finalista sesta agli europei juniores nei 200 farfalla Terza al festival olimpico della gioventù europea 2013 Andiamo a vedere il crono va al tocco 2 13 e 40 Marina Luperi la vittrice Al secondo posto Elisa Vidal 2 18 23 Anna Fontana 2 18 e 81 per la terza posizione E dunque se ufficiale si tratta di vittoria e nuovo primato del meeting Marina Luperi Italia